Vangelo del 19 novembre 2015 Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù, quando fu vicino a Gerusalemme, alla vista della città pianse su di essa dicendo Se avresti compresa anche tu, in questo giorno, quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte Distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra Perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata Parola del Signore